Cari quaddisti, buongiorno! Grosseto, gara 2, Pegasus Racing, Gianfranco Sabatini, il proprietario dell'azienda, il nuovo alfiere della Pegasus Racing, Riccardo Varani. Il nostro Riccardo, pilota della squadra corso e quaddisti.it, è entrato nella buona della Pegasus Racing, del grande Gianfranco Sabatini, ha deciso di seguire il nostro pilota per le fasi finali del 2011 e per il 2012. La Pegasus Racing è un'azienda giovane, è un'azienda che si è impegnata nella qualità, produce arms, assali e quant'altro resto serva per l'assetto del quadriciclo. Gianfranco, sei venuto per la prima volta a vedere quel corso oggi? E' la prima volta oggi e sono rimasto in un'azienda. Hai conosciuto Riccardo, hai visto un uccellino più volato? E ho visto un cavallo vincente, su questo è sicuro. E sono pienamente convinto che voglio investire su questo. Gianfranco, speriamo che nel futuro il tuo investimento in la Tocetta ti ha grandi risultati alla nostra squadra corse, alla Pegasus Racing e soprattutto ai giovani piloti italiani. Io ne sono sicuro, sicurissimo. Riccardo, cosa ci puoi dire? Oggi è una gara sfortunata ma ha dei numeri e una prima posizione. Sfortunata ma molto divertente. Cioè la prima manche, sono partito male, me l'ho subito recuperato e sono arrivato terzo. Poi mi si è spezzata la marmitta e mi sono dovuto fermare. Gara due invece sono partito in testa, sono stato davanti due, forse tre giri. E poi mi si è spezzata il matico. E non è più difficile, mi sono più riaccesa. Però comunque mi sono divertito molto, forse è la gara più bella con fotofilm. E con l'aiuto della Pegasus Racing siamo sicuri che saranno solo lontani ricordi. Certo, sicuro. Gianfranco, vi ringraziamo ovviamente per questa sfida speciale sanatoria e devi farci anche domicili. Certamente. Grazie Gianfranco. Grazie Gianfranco. Pegasus Racing.